Fossombrone lo straziante ultimo saluto a Marina Luzzi Intrappolato in una scarpata a un ragazzo salvato nella notte Scatta il fermo pesca fino all'11 settembre Asfalti lasciati a metà, le segnalazioni a Rossini TV VL, ecco il calendario, si comincia a Brescia e si chiude a Venezia Ben ritrovati su Rossini TV Buona serata a tutti voi che siete collegati sul canale 80 Qui in questa prima edizione del nostro telegiornale Apriamo con le immagini che arrivano da Fossombrone Dove proprio oggi è stato il funerale di Marina Luzzi Quarantenne uccisa martedì dal cognato Andrea Marchionni Un delitto per il quale oggi è stato convalidato l'arresto dal Tribunale di Urbino Un dolore lancinante mescolato alla spiazzante incredulità di un delitto senza un perché A tre giorni dall'omicidio di Marina Luzzi La comunità di Fossombrone si è riunita oggi pomeriggio Nella locale chiesa di Santa Maria Ausiliatrice Per l'ultimo saluto alla 39enne Mamma di una bambina di appena due anni Uccisa martedì mattina con un colpo di pistola D'Andrea Marchionni, il fratello del fidanzato della stessa Marina L'omelia di Don Steven Carboni ha cercato parole di conforto All'atroce dramma che sta vivendo una famiglia devastata A cominciare da Enrico, divenuto l'unico genitore della piccola Nicole A causa di un fratello che le ha tolto brutalmente l'amore della compagna E ha reso la figlia orfana di mamma Il dolore della mamma Franca, della sorella Milena, dei parenti e dei tanti amici e amiche Che in chiesa hanno lasciato testimonianze fotografiche di Marina Corredate dalla scritta Per sempre con noi Chiesa gremita in una fossombrone chiusa a lutto Con serrande di negozi abbassate E con manifestazioni pubbliche rinviate o iniziate con un minuto di silenzio Poche ore prima del funerale L'omicidario confesso Andrea Marchionni Faceva il suo ingresso nel tribunale di Urbino Dove si è tenuto l'interrogatorio di Convalida Che cercherà di dipanare la nube di mistero che avvolge il movente I carabinieri stanno setacciando computer e telefono Per far luce sui fantasmi della personalità Di un uomo chiuso, isolato e improvvisamente degenerato In un'esecuzione con un colpo di pistola fra le mura familiari I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte In prossimità di Novilara per soccorrere un ragazzo Rimasto bloccato in un'impervia scarpata difficilmente raggiungibile Il giovane sarebbe infatti scivolato mentre camminava lungo un fossato La squadra dei pompieri è riuscita a scendere nella scarpata Con tecniche speleologiche ed ha dovuto farsi largo Anche con la motosega per la fitta vegetazione Il ragazzo è apparso visibilmente infreddolito Ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 E proprio i vigili del fuoco e 118 sono intervenuti insieme ai carabinieri A mezzogiorno di oggi in Baia Flaminia Dove una donna di 50 anni si è gettata da un terrazzo del terzo piano In un appartamento di Viale Mosca L'ambulanza è intervenuta, trasportato in ospedale la donna ancora viva Ma in condizioni gravissime Ed ora cambiamo argomento Raffica di furti in appartamenti sono stati segnalati in questi giorni Nelle zone di Terre Roveresche, Colli, Almetauro e Fratterosa In quest'ultimo comune è stata presa di mira anche la casa del sindaco a Valtroni Mentre il primo cittadino era impegnato in una seduta del consiglio comunale Ladri che sono penetrati anche nell'attigua casa dei genitori Ancora da quantificare l'ammontare del furto sul quale indagano i carabinieri Sulle tracce di una banda specializzata Da domani scatta il fermo pesca in buona parte della costa adriatica marchigiana Da Pesaro fino a Civitanova I pescherecci dovranno rimanere ormeggiati in porto fino all'11 settembre In un periodo di interruzione volto a consentire alle specie ittiche di riprodursi nei nostri mari Ciò non significa che il pesce locale scomparirà del tutto dai banchi di pescherie e mercati Il provvedimento infatti riguarda la grande pesca intensiva e non le piccole barche che potranno continuare la loro attività Ieri sera le nostre telecamere si sono accese a Gabice Mare In occasione di un convegno della regione Marche In merito ai progetti in concorso per la riqualificazione di spazi pubblici Un bando che vede protagonisti diversi comuni della provincia di Pesaro e Urbino Vediamo Oggi si parla di tre progetti dell'entroterra Marchigiano, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro e Sanatoglia Ma lo facciamo galleggiando sul mare? Questa è una location non da poco Insomma abbiamo scelto Comunque fa sempre parte del territorio Siamo sempre in provincia Per cui alla fine benvengono anche questi modi di poter interpretare Il tema del convegno è un tema che mi sta particolarmente a cuore Perché il tema è la qualità, la qualità del progetto Che ovviamente la qualità del progetto presuppone che ci sia la qualità della filiera Che porta poi avanti il progetto Mi spiego meglio Non occorrono che ci siano delle professionalità qualificate Occorre per fare un buon progetto avere una conoscenza del territorio Avere una conoscenza di tutti quegli aspetti che poi concorrono alla riuscita di quel progetto Abbiamo tanti campanili ma vogliamo abbattere i campanilismi Premiando tutto il territorio senza distinzione dal nord al sud della regione E dalla costa ai territori interni dei grandi e piccoli centri Come? Finanziando la qualità Finanziando quei comuni e quelle comunità che sanno progettare in qualità Ecco perché siamo qui con gli ordini degli architetti e degli ingegneri Ci è venuto a far visita il presidente nazionale dell'ordine degli architetti Perché siamo e vogliamo essere un esempio in Italia sulla qualità Aggiungiamo qualità con dei progetti e questi progetti stanno cominciando ad arrivare Grazie a degli stanziamenti anche importanti Sì, stanziamenti da un milione di euro ciascuno per i comuni vincitori del bando Che mettono a terra qualità Perché? Perché per troppi anni abbiamo pensato a costruire A volte senza pensare bene ai progetti che stavamo realizzando E a volte anche danneggiando la bellezza che c'era stata lasciata nel passato Quindi anche un'operazione culturale per sensibilizzare verso la bellezza Quella bellezza che ci ha dato la natura che dobbiamo preservare 50 comuni nella provincia, solo 4 hanno il mare Bisogna veramente dedicare molta attenzione all'entroterra Assolutamente, io su questo ho sempre cercato di collaborare con tutti i sindaci dell'entroterra Sono consapevole del fatto che, naturalmente parliamo della nostra provincia di Pesaro Urbino Il valore aggiunto che può dare al turismo che sceglie questa località turistica È proprio dato dall'entroterra Quindi bisogna fare in modo che l'entroterra sia conosciuta sempre di più Sicuramente una spinta importante e un'occasione importante sarà la Pesaro Capitale della Cultura 2024 Quindi questo sicuramente può dare tanta visibilità Oltre alla costa ma soprattutto al territorio interno Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni L'invito è sempre quello di mandarci foto, video o messaggi di testo Al nostro numero Whatsapp che vedete in sovrimpressione Una segnalazione oggi che si occupa della frazione fanese di Sant'Andrea in Villis Dove i residenti lamentano una gestione dei lavori di asfaltature quanto mai discutibile Prima asfalti dimenticati per anni Poi asfalti realizzati a metà che suonano come una beffa Rossini TV risponde alla segnalazione di alcuni residenti di Sant'Andrea in Villis Frazione collinare del comune di Fano Riferendosi a strada Monte Pitocchio Dove per anni si è avuto un asfalto ammalorato Ridotto a pericolose isole Buche insidiose per ciclisti e motociclisti E un fondo disastrato Soprattutto nella zona a monte della via Rispetto a quella valle che fu asfaltata in tempi più recenti Lamentele dei residenti che durano da 5 anni Con l'assessore Fanesi Che all'epoca rispose che avrebbe asfaltato la via Sicuramente dopo l'esecuzione del nuovo acquedotto Residenti che hanno dunque faticosamente atteso altri 4 anni E poi un mese fa Aset ha finalmente mosso le macchine per l'asfaltatura sulla strada Per i residenti però il risultato è stato quanto mai deludente Beffardo E' stata infatti asfaltata la metà a valle della strada Che era già in buone condizioni Mentre a monte è stato fatto un trattamento di cosiddetta depolverizzazione Che non è una vera asfaltatura E che già si sta sgretolando Riformando vecchie buche e mucchi di ghiaia Lo scenario è dunque quello di metà strada asfaltata E metà in cui già cresce l'erba Una situazione inspiegabile e inaccettabile per i residenti A fronte di un lavoro che richiedeva 150 metri in più di intervento E a fronte di richieste precise che duravano da 5 anni Ed ora andiamo a parlare di alcuni eventi Che si terranno nel nostro territorio A Pesaro infatti entra nel vivo L'undicesima edizione del Palio dei Braceri Aperto da ieri a Rocca Costanza Con stand gastronomici, concerti E con i tornei di quartiere Di Bigliardino e Tiro la Fune Le cui finali saranno domani alle 20 e alle 21 Domenica invece la giornata clou del Palio Comincia alle ore 17 Con le sfilate di Miss Palio E alle ore 18 Con il via alle gare attorno alla Rocca Che vedono quest'anno 16 contrade partecipanti La finale è prevista alle ore 21 È partita la 51esima edizione del Festival Gallo d'Oro Il tradizionale Festival è cominciato ieri sera Con l'inedita serata Galletto d'Oro Che ha visto l'esibizione di 12 bambini A Gallo di Petriano si continua questa sera alle ore 21 Con la presenza sul palco dell'imitatore di successo Antonio Mezzancella Mentre sabato, sempre alle ore 21 Scatta la gara Canora con 23 cantanti in competizione Vi ricordiamo che sarò proprio io a presentare la serata appunto di sabato sera E che tutte e tre le serate andranno in onda chiaramente su Rossini TV L'1, il 2 e il 3 agosto Altro appuntamento che sarà seguito dalle nostre telecamere E' quello con la seconda edizione di Donna Live & Beauty Che si terrà domenica 30 luglio alle 20 e 30 al ristorante La Giara Un appuntamento estivo legato alle tendenze moda Dedicato alla donna over e curvi Con sfilate e 14 concorrenti per il titolo di Miss Giara Continua la rassegna di Amat Mira al Teatro d'Estate Che martedì 1 agosto propone al parco Mira al Fiore Un appuntamento di rilievo internazionale Con il concerto di Benjamin Clementine Cantautore di culto nella scena musicale inglese Che avrà a Pesaro una delle sue uniche quattro date italiane 3.000 persone della provincia di Pesaro Urbino Parteciperanno fino a domenica al congresso nazionale dei testimoni di Geova Che si tiene nella vicina Rimini Un congresso che quest'anno avrà al centro il tema della pazienza Evidenziandone il valore pratico attraverso esempi tratti dalla Bibbia Fra i momenti più attesi quello di domattina In cui sarà celebrato il battesimo dei nuovi fedeli Torniamo a parlare di eventi perché si chiude domani a Cartoceto Il format conterranea che unisce i comuni dell'area o le aree DOP In un connubio fra gastronomia, cultura e ambiente Sabato 29 luglio alle ore 20 e 30 Nello splendido belvedere di Piazza Marconi di Cartoceto Si conclude conterranea Il format promosso dai comuni dell'unica areale o le aree DOP delle Marche Ovvero Monbaroccio, Coglia il Metauro e appunto Cartoceto Viaggio che si conclude in uno scenario che avrà alle spalle il Teatro del Trionfo E di fronte una diustesa di olivi che degrada sino al blu del mare Location in cui la serata svilupperà il tema Teatro, luogo di anime, sviluppo e identità Argomento che identifica Cartoceto dove il teatro, anticamente frantoio e deposito di olive Si appresta a diventare il primo polo performativo multisensoriale nazionale Grazie al finanziamento da 2 milioni di euro del Ministero della Cultura Uno spazio di sperimentazione artistica improntato alla sensorialità aumentata All'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie in ambito teatrale Un luogo dunque chiamato a connotare un territorio e a dargli una prospettiva di sviluppo Con ricadute importanti su economia e sistema turistico e culturale locale A curare questo percorso l'attore Filippo Paolasini Che alternerà momenti di reading a musica e dialogo Nel talk della serata anche il direttore di Ama Gilberto Santini E' il progetto musicale sulle note della storia italiana A partire da Teatro X sviluppato da un trio d'eccezione Composto dalla cantante Emilia Zamoner, da Massimo Moriconi e Enrico Valanzuolo Il menu della cena nel quale saranno protagonisti le eccellenze del territorio Sarà curato dalla chef Eva Maria Valk del main sponsor Osteria del Cardinale Affiancata nel racconto di Vini e Oli dal sommelier Hotel Lorenzi Chiudiamo questa edizione parlando di sport Il campionato 2023-2024 della VL inizierà il primo ottobre a Brescia E vedrà la prima partita alla Vitri Frigo Arena l'8 ottobre con Venezia Primi due impegni di un calendario di Serie A pubblicato oggi E che arriva all'indomani del completamento del roster dei Biancorossi Vediamo Partirà da Brescia il cammino della nuova stagione della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Il primo ottobre i ragazzi di Coach Buscaglia saranno ospiti della squadra Autrice dell'eliminazione dei Biancorossi nelle ultime final eight di Torino Come recita il calendario della stagione 23-24 Stilato ufficialmente oggi alle 12 Per vedere la VL alla Vitri Frigo Arena basterà aspettare una settimana dal debutto L'8 ottobre Tambone e compagni accoglieranno Venezia davanti ai propri tifosi Per affrontare i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano la VL dovrà attendere la quinta giornata Quando il 29 ottobre scenderà sul parquet del Forum Invece il ritorno a Pesaro è fissato al 4 aprile Sarà invece l'ultima partita del 2023 quella che i Biancorossi disputeranno contro la Virtus Bologna Quando il 30 dicembre saliranno nel capoluogo emiliano Alla ventitresima giornata sarà il parquet della Vitri Frigo Arena ad ospitare invece il ritorno In programma il 17 di marzo Regular season che si concluderà il 5 maggio con i Biancorossi che chiuderanno in Laguna il loro girone Se c'è certezza per il calendario per la prossima stagione La parola certezza emerge in casa VL anche per quanto riguarda il nuovo roster Completato nel pomeriggio di ieri con l'ultimo tassello mancante Il nuovo centro bianco rosso sarà il tedesco Gavin Schilling 34 il numero sulle spalle per 206 centimetri e 113 di peso Arriva a Pesaro dopo l'esperienza al Cognaspor in Turchia Conclusa con 9,1 punti di media e 6,7 rimbalzi Da Schilling a McCollum dall'ultimo rinforzo al primo acquisto per il 2023-2024 Il playmaker americano con più di 150 presenze in NBA Sbarca in città a 32 anni dopo l'ultima esperienza in Francia con i colori del Nanterre Il nuovo numero 3 sarà la chiave della manovra della squadra di coach Buscaglia Anche lui volto nuovo della prossima stagione al posto di Repigia Il coach pugliese strettamente legato al suo passato con Trento Ereduce dall'esonero con Napoli e dagli ultimi mesi conclusi sulla panchina israeliana dell'Apoel Eilat L'ala grande della Carpegna Prosciutto sarà invece lo statunitense Quincy Ford Che con i suoi 203 centimetri ha chiuso la sua ultima esperienza in Ungheria Con 12,4 punti di media e 7,4 rimbalzi A ricoprire il ruolo di guardia invece sarà lo statunitense con cittadinanza kosovara Scott Bamford 34enne di 1 metro e 88 centimetri Un nome già conosciuto nel nostro campionato grazie alle due stagioni Dalle 2017 al 2019 con la canotta della Dinamo Sassari Prima di atterrare a Pesaro dopo le esperienze in Montenegro, Francia e Spagna L'ultimo rincalzo da buoni punti sulle mani porta il nome di Trevon Bleuet L'ala piccola americana classe 1994 di 198 centimetri Che al termine della stagione trascorsa in Polonia ha chiuso con 16,4 punti di media Sono così 5 gli americani che vanno ad aggregarsi ai 5 italiani confermati in rosa Vale a dire Totè, Visconti, Tambone, Stazonelli e il rientrante Mazzola A salutare Pesaro e l'ottima annata conclusa con gara 4 dei playoff contro Milano Gli americani Abdurrahman e Cittam, Ceralan Populos, Kravic, Gudmundson, Dei e Moretti A salutare i colori bianco-rossi anche il capitano Carlos Delfino Che dopo tre anni splendidi tornerà molto probabilmente in patria Per concludere la carriera e tifare a distanza i suoi ex compagni nella prossima stagione E come sempre quest'anno noi di Rossini TV seguiremo con il nostro programma di successo Insieme a Canestro tutto il campionato della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Quindi state collegati su Rossini TV perché l'appuntamento è sempre quello del giovedì Sera in diretta a partire appunto da ottobre con questo format televisivo Intanto restate collegati con noi perché questa sera vi faremo vedere le immagini Del trofeo dei territori maschile e femminile di Beach Volley 2x2 Questo grande trofeo si è tenuto presso Bagnagata di Pesaro Noi l'abbiamo seguito chiaramente con le nostre telecamere Questa sera alle 21.20 ve lo raccontiamo E voglio anche ricordarvi la nostra rassegna stampa Come sapete, come state vedendo, Rossini TV non vi abbandona mai Anche durante le vacanze potete seguire la nostra rassegna Scaricando la nostra applicazione Vedendoci magari se siete fuori regione nella diretta su Facebook Per essere aggiornati sempre sulle notizie del nostro territorio E poi vi ricordiamo che martedì 1 agosto alle 21.20 Andrà in onda la prima serata del Festival Gallo d'Oro Quella dedicata ai bambini che per la prima volta si sono esibiti sul palco di Petriano Infatti c'è la selezione del Galletto d'Oro Quindi se volete un annuncio anche a tutti coloro che hanno partecipato Quelli che non hanno potuto essere presenti alla selezione Appunto la serata del Galletto d'Oro Possono vedere l'intera serata martedì 1 agosto alle 21.20 Mentre mercoledì 2 agosto allo stesso orario Vi mostriamo la serata che c'è questa sera al Gallo di Petriano Con l'ospite Antonio Mezzancella Che appunto sapete è un comico di successo E che potrete rivedere mercoledì 2 agosto Ma la vera e propria serata della selezione dei cantanti del Festival Gallo d'Oro È quella che vedrete giovedì 3 agosto Quella che appunto sabato presenterò io sul palco scenico del Gallo d'Oro Appunto del Gallo di Petriano La serata appunto dedicata al Festival Canoro Anche qui ci saranno tanti ospiti Tra questi anche la signora Coriandoli Grazie come sempre per averci seguito Mettete like sui nostri social Facebook, Instagram Per essere aggiornati su tutta la programmazione di Rossini TV Vi auguro una buona serata Grazie